Val Brenta sono partiti da San Gaetano di Vastagna, oggi alle 14.50 ragazzi della vallata dai 15 ai 35 anni che amano il proprio fiume e si sono passati parola anche quest'anno per la discesa e sono appunto scesi fino a Campolungo facendo tappa a Vastagna. È ormai una tradizione questa iniziata con un gruppetto di giovani qualche anno fa ma che conta sempre più partecipanti e tutti della zona. Oggi alcuni hanno acquistato di tutta fretta gli ultimi gommoni e via insieme lungo il Brenta. Grazie a tutti.